Al mattino bel tempo su tutta l'Italia, eccetto sulla Sardegna, interessata da nubi ma senza piogge, qualche isolato banco di nebbia sul Cremonese e sul Mantovano, ventoso sulle regioni ioniche e sulla Sardegna. Al pomeriggio nubi associate a qualche pioggia o rovescio sulla Sardegna e sulla Sicilia, poco nuvoloso su Lombardia, Triveneto e Lazio, sereno sulle restanti regioni. Temperatura massima in calo su Puglia e Calabria, in rialzo sulle rimanenti regioni. Dati, servizio meteo aeronautica, elaborazioni e grafica Epson. Ora in poi si incolla. Rifrutterà 100.000 dollari quello che avete alla dentro. È una bella cifra. Sicuro è una bella cifra. Più prezioso del loro. Mi dispiace ma il carico non è in vendita. A condurlo due uomini. Uno alla ricerca di un riscatto morale. L'altro incapace di resistere alla tentazione di arricchirsi. Entrambi prigionieri del loro passato. Fermati collo, ti uccido! Ogni notte prima di addormentarvi, scruterete il buio intorno con la paura che io sia mai. James Stewart, Arthur Kennedy, Rock Hudson. Là dove scende il fiume. Giovedì alle 20.35, su Rete 4. No, amore. Ho mal di testa. Adesso? Eh, sì. Con questa ti passa in fretta. Me non ho mangiato. Non fa niente. Cibalgina 2 Fast è microincapsulata, così non aggredisce lo stomaco. Dammi retta. Cibalgina 2 Fast. Spegne il mal di testa, non aggredisce lo stomaco. Mi è passato il mal di testa. È un medicinale a base di ibuprofene che può avere controindicazioni di effetti collaterali, leggere il foglio illustrativo, non somministrare il dissuotore 12 anni. Cibalgina 2 Fast. Le mie piastre sono annerite. Usa smack gas. Poche gocce e tutto splende senza strofinare. Smack gas. Pulito e splendore. Senza fatica. Tenimi la merenda, papà! Buona questa merenda. È Orochoc. Tutta la leggerezza di Oro Saiva, unita all'energia e alla bontà di una vera tavoletta di cioccolato al latte. Papà, è la mia merenda? Mi è caduta. Mi è caduta. Leggerezza d'oro, bontà di cioccolato. Mordi la cosa giusta. Mordi Orochoc. E oggi Orochoc regala fantastici premi in Bugs Bunny e Titti. Bastano 24 punti! Il segreto della crema antirughe più venduta nel mondo è il coenzima naturale Q10. È nella tua pelle. È in questa crema antirughe Q10 giorno. E da oggi la tua forza naturale contro le rughe è attivata anche di notte. Con la nuova crema antirughe Q10 notte. Dipende solo da te. Q10. Il trattamento antirughe completo. Da Nivea Visage. Navigare per ore in internet non mi costerà mica quanto una cocella palmarola. Con noi dopo i primi 15 minuti, navigare in internet dopo le 18 e 30 nei festivi costa solo 16 lire al minuto. 187 di Telecom Italia. Un numero fatto di persone. Super merenda? Ci sono due coccodrilli ed un orangutan. Due piccoli serpenti. E l'aquila reale. Il gatto, il topo, l'elefante. Non manca più nessuno. Solo non si vedono. I due leocorni! Con i budini cameo, il latte lo aggiungi tu e il risultato è una super bontà. Budini cameo, la super merenda. Non ci provare. Già era ingrigita, in più macchiata. Nuovo Rixan Forza Blu con perle attive toglie tutte le tracce di sforzo. Poi la sua forza dà un bianco splendente. Visto? Solo quello che è pulito senza macchia è bianco dentro. Muori? È così. E inoltre, il pulito di Rixan è igienizzato. Rixan, un pulito perfetto. La nuova vicina. No, sono due. Uguali. E se ne vanno. Per forza, è ora di merenda. Merenda! Kinder Pinguì, anche al cocco. Kinder Pinguì, e tu quale scegli? A me piacciono tutte e due. Kinder Pinguì, nutre come una merenda, piace come un gelato. Il mio traguardo è arrivare alle Olimpiedi. Questo è il mio sogno. So di dovermi allenare duramente. E non ho bisogno di altri stimoli. Chilometri su chilometri, una vasca dopo l'altra, tirando sempre di più. Ma sono un essere umano, non un pesce. La gara è solo l'arrivo di un viaggio molto, molto lungo. Oggi pare che tutto sia possibile. Ogni dieci anni io cambio la vita completamente. Ma io ho fatto una certa scelta, per cui adesso ne pago lo scopo. Ha trovato se stessa nella solitudine del convento. Ti aspetto domani sera su Italia 1. Daria Bignardi, Tempi Moderni.